Ciao ragazzi, il panettone ho finito di mangiarlo, il teino l'ho bevuto, gli appunti sono saldamente nella mia mano, sono pronto per parlarti di segnali dall'universo. Segnali dall'universo inteso non come segnali captati con qualche strana antenna tecnologica da Marte, Nibiru o da dove volete voi, ma significano tutte quelle informazioni, tutte quelle indicazioni che il cosiddetto universo ci fornisce costantemente. Noi spesso sentiamo dire l'espressione chiedi all'universo, pongo una domanda all'universo, faccio una domanda all'universo. Io dico che quando poniamo, quando poni questa domanda all'universo poi devi anche essere pronto sostanzialmente a due cose. La prima cosa è che devi essere pronto ad accorgerti della comparsa delle risposte, cogli i segnali, facci caso sostanzialmente. Nel senso che magari non è che non fai la domanda o che non fai la domanda nella maniera corretta, è semplicemente che poi non ti accorgi delle indicazioni, delle risposte che l'universo ti fornisce. Facci caso, unisci i puntini, accorgiti delle cose che ti succedono quotidianamente. È chiaro che se sei, se siamo o quando siamo impegnati nel correre, nel fare, nell'andare, perché si deve fare così, allora quali sono ritmi non naturali? Sono ritmi poco umani, che combaciano poco con la natura dell'essere umano e quindi in quel caso purtroppo risulta evidente come appunto questi segnali sfuggono alla nostra vista, sfuggono alla nostra percezione e allora ci sembra che non ci siano. Invece non è che non ci sono, è semplicemente che non li stiamo vedendo, che non ci stiamo facendo caso. L'altra cosa che bisogna essere pronti a fare una volta posta la domanda all'universo è essere disposti, essere ben disposti ad accettare la risposta, qualunque tipo di risposta, non la risposta che noi ci aspettavamo, non la risposta che noi volevamo, ma la risposta che ci arriva innanzitutto. E questo credo che valga anche in qualunque altro tipo di relazione umana, se non vuoi o se hai paura di sentire la risposta, non fare la domanda. E se fai la domanda devi essere pronto ad accogliere, ad accettare qualunque tipo di risposta. Ecco, questo ci tenevo a chiarirlo anche e soprattutto nei confronti dell'universo, delle domande che facciamo all'universo. Chiedere segnali non vuol dire che le cose vadano come tu vorresti e che ti immagini che possano andare. Fai la domanda e mantieni la mente aperta a qualunque risposta, a qualunque tipo di risposta, sia che sia vicina a quella che tu ti aspettavi, sia che sia completamente lontana da quella che tu ti potevi aspettare, che ti potevi immaginare. Prima di fare la domanda assicurati di essere pronto ad accogliere, ad accettare qualunque risposta, altrimenti, appunto, come detto, non fare nemmeno la domanda. Se non sei pronto ad accettare poi la risposta. A volte, se non cogli i segnali, succede poco o non succede nulla, nel senso che magari non trovi la risposta, non trovi la via, o sei un attimino, appunto, smarrito, come fosi sostanzialmente senza un GPS in una città che non conosci. Però riesci lo stesso a muoverti, magari non nella direzione ottimale, non nella direzione più efficiente possibile, però, in un qualche modo, ti muovi. Altre volte, però, quando invece non riesci a trovare la tua via e l'universo sta facendo di tutto per fartela trovare, per metterti davanti le indicazioni il più chiare e il più precise possibile, allora a quel punto l'universo è costretto ad alzare la voce, per farsi accorgere. È un po' come succede con il corpo umano. Quando non rispettiamo il corpo umano, quando ci sussurra le sue indicazioni per farlo stare bene, lui è costretto ad alzare la voce per farsi sentire e allora sarà in quel momento lì che prenderemo dentro nel mobile piuttosto che inciamperemo nel marciapiede o prenderemo un raffreddore. La stessa cosa succede in macro, nel senso che se non siamo bravi a cogliere i micro segnali che l'universo ci manda, è costretto ad aumentare, ad alzare il tono di queste indicazioni. Per esempio, anche io stesso, un episodio che ho già raccontato altre volte, lo riassumo brevemente, anche io stesso non avevo evidentemente colto dei segnali e quindi in una maniera assolutamente roccambolesca mi è caduto sul piede un disco da palestra da 10 chili, da circa un metro e mezzo, forse qualcosa di più, mi è caduto dritto dritto sull'alluce e costringendomi naturalmente a fermarmi, a fare delle riflessioni e soprattutto a imboccare quella strada che l'universo mi stava in maniera più delicata suggerendo in precedenza. Avevo postato su Instagram qualche tempo fa di cogliere i segnali prima che questi diventino troppo grandi. Se impariamo a cogliere le ghiande prima che diventino querce, probabilmente non ci cadrà una pigna in testa. E nel momento della difficoltà, secondo me il modo migliore, l'atteggiamento migliore per affrontare una difficoltà oggettiva, nel senso che le difficoltà sono delle cose oggettive che poi sicuramente vengono amplificate in maniera soggettiva. Per amplificarle in maniera soggettiva, nella maniera più innocua, in dolore e leggera possibile, è quella di affrontarle con calma, con quiete, magari con un sorriso. Dio sì, più e più volte, ok, stai tranquillo, stai tranquilla, qualcosa mi invento, ok, qualcosa mi invento. Questo è, secondo me, l'atteggiamento da tenere nei confronti delle novità, più che delle novità, delle avversità che incontriamo nella quotidianità, o meglio, nei cambiamenti delle situazioni che magari ci sono inaspettati, che ci sono improvvisi e che ci sembrano completamente ingestibili. Ok, qualcosa mi invento, piuttosto che, oddio, adesso che cosa faccio? Capiamo che è la difficoltà, il problema rimane ed è assolutamente lì nella stessa maniera, in maniera oggettiva, appunto, ma il mio atteggiamento, quindi la mia soggettività, cambia, come il modo di affrontare questo cambiamento. E questo è l'approccio, secondo me, se cambiano le regole o ti inventi qualcosa, quindi o ti adatti, o ok, mi invento qualcosa, o altrimenti esci dal gioco, non hai grosse altre alternative, sinceramente, nel senso che o ti adegui al cambiamento oppure smetti di giocare. Per adattarsi però al cambiamento, secondo me, è fondamentale conoscere bene le regole e poi inventare qualcosa. Bisogna conoscere bene la tecnica per poi poter creare. Sostanzialmente potremmo dire che l'improvvisazione non si improvvisa affatto, sostanzialmente. Anzi, secondo me, per arrivare ad essere sicuri di quel ok, qualcosa mi invento, non è fondamentale, però secondo me conviene e facilita molto la faccenda a partire da una base solida. E la base solida in che cosa consiste? Queste solide fondamenta, secondo me, sono la fiducia in se stessi, quindi la fiducia in te stesso, la fiducia nelle tue capacità e queste due cose afferiscono chiaramente all'autostima. Poi la conoscenza, la conoscenza di se stessi e la conoscenza del problema che si sta andando ad affrontare. E poi l'allenamento, viviamo in un mondo materiale dove qualunque cosa è allenabile, qualunque cosa materiale, qualunque gesto materiale è allenabile, ma anche qualunque gesto intellettuale in realtà è allenabile. E quindi allenarsi alla fiducia in se stessi, alla conoscenza delle tue capacità con pazienza e con costanza. È chiaro che se io provo a camminare sulla fune, no, questo forse è un po' complicato, se io provo a camminare, a pattinare sul ghiaccio e dopo le prime due cadute mollo il colpo perché ma se dai tanto non ce la faccio e allora stai pur certo che non ce la farò mai. Mentre appunto l'allenamento, la pazienza e la costanza danno il risultato. Proviamo a pensare a quando eravamo bambini e nessuno di noi, credo, è nato che sapeva camminare e poi tutti siamo riusciti a camminare cadendo. Non è che un giorno abbiamo detto ok, da domani cammino e abbiamo iniziato a camminare. Ci siamo allenati, abbiamo provato, abbiamo avuto pazienza, siamo caduti e ci siamo rialzati. Addirittura senza neanche porci il problema o il dramma oddio non riuscirò mai a camminare. Credo che a nessuno di noi sia passato per la testa quel problema. Non è passato per la testa perché era una testa non condizionata, non c'era quel tipo di condizionamento che tende ad abbassare l'autostima. Ma semplicemente lo volevamo fare e semplicemente siamo riusciti a farlo. L'obiezione che mi potrebbe essere fatta è ma quante cose ci sono da fare? Sì, sono tante ma le alternative invece sono sempre due. O ti adatti alle regole del gioco o esci dal gioco. Semplicemente. Il gioco in questione non è il pattinaggio o il camminare ma il gioco in questione è l'esperienza umana sul pianeta Terra. È quella cosa che noi chiamiamo vita. In sanscrito c'è una parola che è lila. Lila vuol dire infinito gioco cosmico. Quindi è chiaro che questa esperienza è un gioco e come tale vada affrontata per essere vissuta al meglio. Con la stessa spensiatezza e con la stessa leggerezza con cui affrontiamo un gioco. Attenzione, un gioco non una competizione sportiva agonistica quindi non con tutti quei lati oscuri e negativi lì ma esattamente come quando affrontiamo un gioco con la stessa leggerezza e con la stessa spensiatezza e con cui appunto affrontiamo un gioco. Concludendo, appunto, l'approccio fa la differenza. Avevo fatto qualche video fa una recensione forse un po' troppo avevo commentato, avevo espresso il mio parere sul libro che avevo letto quest'estate di Matthew McCannick. Voglio ricitarlo in questa occasione proprio in riferimento all'approccio. Lui ha scritto Se continui a calpestare la cacca o ti inventi che porta fortuna o ti impegni al massimo per calpestarne il meno possibile. Questo è l'approccio. Fuori e dentro, il viaggio continua. Namaste. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.